Tutto il quartiere è piuttosto carente in materia di segnaletica stradale, quindi ci troviamo strade che hanno dei dare precedenza piuttosto che dei stop che non sono molto visibili e rappresentano un pericolo per la circolazione. Come associazione ci preme segnalare anche il fatto che esistono pochi attraversamenti pedonali, molto spesso non sono illuminati e quindi sono pericolosi. E purtroppo lo sappiamo perché qualche anno fa abbiamo avuto un investimento mortale di un ragazzo di giovane età, come più o meno tutti sanno qui in zona, e quindi ci soffermiamo più che altro sull'aspetto della sicurezza. In questo caso abbiamo anche delle situazioni paradossali, per cui ad esempio su via di Castelporziano, all'altezza della chiesa di San Tommaso, esiste un ribasso per l'attraversamento pedonale di persone con mobilità ridotta, che però finisce in un punto in cui c'è un impedimento con una transenna perché c'è la fermata dell'autobus e quindi le strisce sono state disegnate 5 metri più avanti, dove ovviamente non c'è ribasso per le carrozzine. Oppure su via Wolf Ferrari, all'altezza di piazzale Giardini di Marzo, troviamo un attraversamento pedonale proprio in prossimità del capolinea degli autobus. E in questo caso quando l'autobus è fermo, magari i 5-10 minuti di sosta, crea un'ostruzione proprio visiva per chi proviene da via Wolf Ferrari e i pedoni si trovano a passare davanti l'autobus e non si vedono, cioè ci si trova il pedone direttamente quando già è a metà strada. Per cui sarebbe il caso forse di rivedere il posizionamento di quelle strisce posticipandole un pochino, anticipandole, trovandogli un posto più consono. Noi appunto come Infernetto Attivo ci auspichiamo una maggiore attenzione a tutto ciò che riguarda la sicurezza stradale, quindi la possibilità di vivere il nostro quartiere in maniera sicura e in maniera normale, come dovrebbe essere in una città come Roma, ma che un quartiere come l'Infernetto purtroppo in questo momento sta subendo un pochino.